Io ho scelto di parlare cinese a mio figlio, ho scelto di dargli una cinesità, ma non perché la cinesità sia importante, ma perché lui, agli occhi degli italiani, assomigliandomi, sarà sempre cinese. Allora avrà un momento nella sua vita in cui si chiederà chi sono e se avrà più elementi nella sua biografia personale, avrà più conoscenze. Io gli avrò insegnato delle cose, allora lui avrà più strumenti per gestire il tornado di emozioni che avrà. Io sento la responsabilità di dovermi spiegare, non di dovermi spiegare che sono italiana, ma sento la disponibilità a dirti io ci sono, se tu vuoi, a raccontarti la mia storia. Perché sono sicura che dopo che ti avrò raccontato la mia storia, tu vedrai in me una persona, non vedrai più una persona cinese. Il fatto che sia cinese sarà secondario. Riconoscerai in me una cittadina a pari di te, riconoscerai in me una persona che tutti i giorni sbalza contro muri di gomma e torna indietro esattamente come te.